80 milioni di dischi venduti, più di 40 album registrati ed oltre 3.000 concerti in quasi tutto il mondo. Roby Facchinetti, Alanagrafe Camillo Ferdinando Facchinetti, ha raccontato sul palco di Piazza 20 Settembre a Fanno la sua vita, vissuta e restituita al pubblico nell'autobiografia che spettacole la vita, la mia storia. Libro pubblicato nella ricorrenza degli 80 anni, festeggiati il 1 maggio 2024. Emozioni, sogni, affetti e carriera, dalla valle di Astino alla famiglia costruita con l'adorata Giovanna, dai primi amori dell'adolescenza ai tour mondiali, dal rapporto con nonni e genitori all'affetto per papà Roncalli, dalla gavetta musicale negli anni 60 ai successi con gli amici per sempre, i pubblici. Durante l'incontro organizzato da Passaggi Festival, l'artista ha raccontato anche aneddoti, collaborazioni artistiche e il senso dell'amicizia, come quella con Stefano Dorazio. Nel suo libro lei racconta dall'infanzia i suoi più grandi successi, ma riprendendo alcune parole di un brano di otto anni fa, ma che vita la mia, lei dice, parla di un quarto d'ora di gloria, possiamo dire che però questo quarto d'ora di gloria dura da tutta la vita, quello è il segreto? È un quarto d'ora alla volta, ma il segreto, beh certo, diciamo che l'amore per il proprio lavoro e poi ho avuto la fortuna veramente di trasformare una grande, grande passione e che è diventato poi un mestiere, io dico sempre che è il mestiere più bello del mondo e questo, diciamo che tutto questo e altro, sono riuscito a rimanere insieme e mantenere tutte queste bellissime cose e mi hanno fatto arrivare fin qui. Certo non è stato assolutamente facile, però devo dire che la musica ti dà una grande mano, anche e soprattutto nei momenti difficili, nei momenti che devi per forza superare e quello che dico sempre, la musica è la migliore medicina, per cui devo dire che ci sono veramente tante tante alchimie che mi hanno permesso di arrivare fino ad oggi e non è finito qui, perché fino a quando ho la fortuna di avere la fantasia, perché per un artista la fantasia è la cosa più importante, no? La fantasia è l'amore per la musica e tutto quello che riesce comunque a regalarmi la musica e si continuerò a salire sul palco, perché il palco è veramente un po' come tornare sempre a casa. Ha dei rimpianti musicali? Ma sì, dei rimpianti sì, perché è una vita talmente piena, però devo dire ricca di cose e sicuramente di cose, più di cose belle, di cose meno belle. Se dovesse tirare la somma oggi non devo, devo essere veramente grato alla vita, agli uomini e a Dio per quello che siamo riuscito ad avere sempre e comunque. Però è chiaro che i rimpianti ci sono, ad esempio quando facciamo Sanremo e vincemo Sanremo con Uomini Soli, non sapevamo che con questo brano potevamo anche vincere, per cui il giorno dopo ci siamo trovati per diritto a fare l'Eurofestival e non eravamo assolutamente preparati, non avevamo neanche il brano, perché all'epoca bisognava portare un inedito, non avevamo il brano inedito e non l'abbiamo potuto fare. abbiamo lasciato per diritto a Toto Cotugno che arrivò secondo quell'anno, andò lui e lo vinse e devo dire che non finiva mai di ringraziarvi, ringraziare noi per quello che gli abbiamo regalato poi alla fine adesso devo dire che questo rimpianto lo sento molto 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 meno. Ci sono stati invece degli incontri che hanno cambiato il vostro percorso? Beh, l'incontro con Ipù, perché quello sicuramente ha cambiato la mia vita, ha cambiato tutto, perché io ho incontrato Ipù a aprile del 1966, perché siamo trovati a Bologna a suonare nello stesso locale e quando alla fine della serata mi chiesero se volevo, se avevo questo piacere, questo voglio, questo desiderio di entrare a suonare con loro, ecco lì ho capito che era arrivato per me il famoso treno che su questo treno dovevo assolutamente salirci. Lei verò con Ipù ha girato l'Italia, ha girato il mondo, c'è qualcosa in particolare che ha sacrificato per la musica e per la carriera? Beh, la famiglia, i miei figli, mia moglie, questo sì. Noi, lo diciamo sempre, abbiamo veramente, come hai detto, anticipato anche tu, dedicato tutta la nostra vita e anche a tutt'oggi, noi fra pochi giorni ripartiamo con la tournée estiva, che sarà una tournée fantastica perché andiamo a toccare i posti più straordinari, le piazze più straordinarie e più belle da Piazza San Marco a Venezia in poi però diciamo che i rimpianti anche su questo fronte, nei confronti della famiglia, sì io non ho potuto assistere, che ne so, ai miei figli la prima volta che hanno pronunciato la parola papà piuttosto che il primo giorno di scuolo o dell'asilo in alcuni dei miei figli questo non l'ho potuto fare e ad oggi posso dire che è una cosa che non l'ho potuto vivere ed è un rimpianto A proposito di concerti vedremo Ipù anche nel nostro territorio a Cattolica e Senigallia per cui intanto buon Passaggi Festival, grazie, grazie mille, grazie Chi fermerà la musica?